In Campania ancora troppe criticità. La questione depurazione non è più rimandabile e deve diventare tema prioritario dell'agenda politica regionale in vista della tornata elettorale di settembre. Così questa mattina Maria Teresa Imparato, presidente di Lega Ambiente Campania, nel corso della conferenza stampa presso la Lega Navale di Salerno, rendendo noto i dati del monitoraggio di Goletta Verde sulle coste della regione effettuato dal 7 luglio al 3 agosto scorsi da volontari e volontarie dell'associazione. In Campania 14 punti sui 31 campionati da Goletta Verde di Lega Ambiente risultano oltre i limiti di legge 10 quelli giudicati fortemente inquinati e 4 quelli inquinati. Nel Mirino ci sono come sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l'inquinamento microbiologico causato da cattiva depurazione o scarichi illegali arriva in mare. E anche quest'anno si registrano livelli di inquinamento record, situazioni che nonostante gli esposti dell'associazione ai controlli delle forze dell'ordine mostrano un inquinamento ormai cronico. È il caso ad esempio della foce del fiume Irna Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce del canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Ponte Gagnano, giudicati fortemente inquinati per l'undicesimo anno. E questa dunque in sintesi la fotografia scattata a lungo le coste della Campania, presentata stamani alla stampa. In provincia di Salerno 5 sono risultati fortemente inquinati e 3 punti inquinati. Tra quelli fortemente inquinati ci sono la foce del torrente Dragone del comune di Atrani, il punto alla foce del fiume Irno sul lungo mare Tafuri di Salerno, il punto alla foce del fiume Picentino tra Salerno e Ponte Cagnano-Faiano, la foce del torrente Asa sul lungomare Magazzeno, sempre a Ponte Cagnano e il punto alla foce del canale di scarico alla Marina di Eboli. Si conclude con la presentazione dei campionamenti che abbiamo fatto tra luglio e agosto. 31 campionamenti in tutta la campagna, la metà oltre i limiti di legge, quindi occhi aperti ancora, attenzione sulle foci dei fiumi, sulle foci dei torrenti, alcuni addirittura inquinati da 11 anni, quindi da 11 anni sottolineiamo il dato di fortemente inquinato ad esempio per la foce dell'Irno, Salerno, come per la foce del Sarno o per la foce del torrente Asa o del torrente Dragone ad Atrani, quindi sorvegliati speciali che hanno bisogno però di risposte. Quindi un appello va oggi alla politica e andiamo verso una campagna elettorale, chiediamo attenzione per la depurazione. L'Italia, la campagna, paga molte salate dell'Europa, quindi noi paghiamo per la mancanza di qualità di depurazione, quindi la mancanza di qualità delle nostre acque. Bisogna intervenire e bisogna chiedere di farlo subito. Non manca l'illegalità, proprio le forze dell'ordine negli ultimi tempi hanno scovato diverse persone che immettevano in maniera illegale acqua nei fiumi e quindi poi di conseguenza mare. Esatto, oltre alla mancanza di depurazione c'è il problema di scariche illegali, quindi c'è necessario un controllo e la prevenzione, infatti un plauso va alle forze dell'ordine e gli enti preposti che stanno facendo un lavoro importante nelle scorse settimane nella Piana del Sele, con i disfersamenti che arrivavano dalle aziende bufaline, che ricordiamo non sono imprenditori ma sono ecocriminali perché non solo sversano i nostri fiumi attentando alla salute dei cittadini, ma poi fanno concorrenza sleale agli imprenditori onesti e che lavorano bene anche in maniera sostenibile che sono la maggioranza. Il lockdown e il covid hanno regalato alla città di Salerno, al litorale salernitano, sono acque più pulite? A largo probabilmente, abbiamo vissuto dei momenti in cui delle immagini visive ci facevano immaginare tempi migliori, però se mancano ancora i depuratori, se manca ancora il collettore fognario, se i dati in uscita dalla depurazione ci raccontano di acque che non sono ancora entro i limiti, chiaramente c'è bisogno ancora di lavorare, la soluzione non può essere di lockdown ma c'è bisogno di depuratori. Grazie a tutti.